...tutto noi, avevamo deciso di chiamarcela da soli. Lo so, ma sai come sono fatti i miei? Io sono la loro bambina. Salve. Ciao, Lu. Dovrei discutere alcuni d'accordo del tuo bambino della loro bambina. Ah, allora. Ti posti a sedere, devo sapere quante conferme hai ricevuto. Ah, 152. 152? Mi conosci i miei? Ah, ah. Tesoro, non avevamo optato per una cerimonia semplice. Eravamo d'accordo fin dall'inizio. Per questo abbiamo scelto Heartland. Qui hai passato dei momenti bellissimi e anch'io adoro questo lavoro. Sì, infatti. Allora qual è il problema? Nessun problema, è solo che era inutile venire qui per avere il genere di matrimonio che volevamo evitare in città. Scusa, ma non lo capisco. Non sei felice? No. Cioè, sì, sono felice, ma sono un po' sorpreso, ecco. Mi dispiace che tu non sia d'accordo. Senti, perché non ci ripensiamo a noi? Già, mi sembra una buona idea. Ripensate. E io che dovrei dire ai miei? Che mangeremo intorno a un falò invece che sotto un gazzardo decorato con rose e luci scimpillanti. Sì, forse è meglio ripensarci e annullare del tutto il matrimonio. Tesoro, non è questo che è il terreno. Ma ormai l'hai fatto e hai rovinato tutto. È tutto rovinato. Non potrò mai amare ricordi felici, perché è il mio gran giorno. Oh, perché è solo il tuo, gran giorno. È sempre il giorno della fosa, Ian. Ricordalo quando mi vedrai sotto la pioggia con i capelli bagnati, incollati alla testa, il frutto che mi suola sulle guance e il mio splendido abito bianco insurfato di visce da portia. È tutto perché non hai voluto un gazzardo e qualche rosa. Scorso, conosco bene da quale avrete il livello di tutto perfettamente conto. Da bene, da bene, sempre. Grazie. Come prima di noi, siamo in una semplice mosca. La tizia di tua madre? No. C'è una nuova, buona nuova. Ho preso una decisione. Non aspetterò che il giudice di chi è che devo stare con la mamma dal lunedì al giovedì e con il papà dal venerdì all'oreggio. Bello, che adesso con le tue disime stai indeciso, non è esagerato. Forse o forse no, ma una maledizione di rivoluzione. Ho sempre una maledizione, anche se è stata distanza. Se non fai subito qualcosa. Che cosa vorresti fare? Oh, i miei metti. Ehi, vieni qui. Guarda che ti dò. Maledizione va via. Maledizione va via. Ecco qua. Maledizione va via. Mi ringrazierà. Grazie. Ehi, grazie. Ehi. Ciao. Ehi. Ma stiamo facendo una cosa? Sì, c'è ancora un paremico da fare, ma stiamo facendo progressi. Svegli, ti chiede. Non penserei che sia vero il tuo, spero. Non esiste una filmina che io non possa capire. Ti ho detto io di lasciarli. Questo è vero, quello lì te l'abbiamo detto. È vero. A me, tu te lo ho detto io. E va bene, mi hai aiutato un pochino. Eh, grazie. Caleb li conosce bene i cavalli. Cos'è anch'io un cavallo di un'altra vizie. E poi ti sei rincarnato in un'altra vittoria. Sì, sono bella, è sempre passiva. Oh, povera bambina. A me piace, è una grande ragazza. Sì, sono bella, è sempre passiva. Sto semplicemente attuando un piccolo workshop come esempio di uso di una iperportatile videocamera entry level nel caso specifico blog di Sony per videoripresa da iperamatore. di un po' Grazie a tutti. 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 a tutti.